Prosegue la ricerca degli spazi per i 1200 studenti dell'Istituto Melchiorre Delfico di Teramo, rimasti senza sede dopo lo sgombero e il sequestro dell'edificio scolastico. A farsi avanti è il gruppo dell'imprenditore Franco Iachini che ha offerto una soluzione temporanea. L'idea è quella di mettere a disposizione gli spazi commerciali dello stadio Bonolis e dell'edificio Infosat per un totale di 5700 metri quadri. Abbiamo questi locali, finalmente si è conclusa la vicenda con il Comune di Teramo, torneranno loro come sapete la gestione della parte sportiva, noi teniamo la gestione della parte commerciale, quindi visto che prima di partire con delle soluzioni di affitto normale abbiamo pensato di dire che quest'area è disponibile, si possono allocare delle strutture. Presso la parte commerciale ci sono circa 4.500 metri su tre livelli, 1.100 metri a piano terra a fianco Decathlon e poi gli altri distribuiti nei secondi due livelli. Oltre questi abbiamo nella palazzina della mia azienda, nella seconda palazzina, un'area open space di circa 700 metri quadri, dove effettivamente già stavamo valutando col Comune la possibilità di realizzare anche degli alloggi per i convittori. Un architetto sta predisponendo, è comunque un'area già pronta, facilmente realizzabile anche in tempi abbastanza celeri, con delle pareti attrezzate, ammovibili, quindi fare sia delle camere che aree comuni, cucina, tutto quello che serve. Iachini si è reso anche disponibile a offrire gli spazi applicando canoni ridotti per contribuire concretamente alla gestione dell'emergenza. Ma credo che sia una cosa dovuta, piuttosto che stare lì a farli, come dire, stare fermi, se ci sono e possono essere utili, perché no, anche se sappiamo che potremmo sacrificarci per qualche anno affinché non si risolva quella situazione e quindi non poter avere il giusto margine di interesse sulle cose, però insomma, se si deve fare lo facciamo.